altro che petardi buonasera sono uno scandalo stasera peggio del solito sono già le 10 alle solite faccio tardi a riuscirci è già un'impresa si sta pure astutando la sigaretta come è andata decisamente meglio non ha più il sondino gastrico perché se l'è tolto da solo ma comunque alla fine il dottore gli ha detto vabbè visto che sei arrancato via proviamo se riesci a bere la fialetta di proteine quella che lui prendeva via sondino con la cannuccia se riesci non si rimette il sondino e in effetti con la cannuccia piano piano oggi quando c'ero io nel pomeriggio si è bevuto due bottiglini interi di proteine piano 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 adesso riesce a deglutire e riesce anche trema tanto però riesce a tenere sul bottiglino da solo quindi comunque è un passone avanti parlare ancora no qualche parola ma riesce bella secca tipo sì no riesce perfettamente ho fame ma lì non avevo dubbi e il resto sono ancora più suoni gutturali poi ogni tanto si incavola perché vorrebbe dire frasi intere ma non ci riesce e poi si incazza perché non riesce a tirarle fuori ma il dottore ogni tanto lo sprona e gli dice dai su che cos'è questo parla comunque appunto adesso stanno vedendo per la questione della risonanza magnetica ma nel frattempo il dottore il primario della rianimazione ha detto che comunque andando tutto per il meglio per ora dovrebbe stare in rianimazione giusto proprio un paio di giorni al massimo tre e poi verrà definitivamente spostato in medicina quindi poi inizierà anche tutta la serie di riabilitazioni e quant'altro e poi in medicina avrò anche io delle nozioni un po più chiare su tutta la questione anche perché appunto aspettiamo questa risonanza addirittura il dottore oggi mi ha chiesto dato che qualche parola gli usciva e poi faceva questi versi il dottore mi dice ma prima parlava normale può guardare io dico sì ha sempre parlato normale e adesso che fa questi rumori non riesce a dire una frase intera se no prima parlava normalmente come noi magari ogni tanto mio marito si mangia le parole quando parla oppure quando non si ricorda come si dice qualcosa di particolare se la inventa la parola però parlava normale come me come tutti e il dottore mi ha un po' guardato dice no perché fa questi versi io penso è una mia però ipotesi penso che un po' abbia l'ansia a sforzare la gola magari proprio perché ha tenuto per oltre una settimana 10 giorni il sonnino gastrico e oltre quello anche era stato anche intubato col tubo largo quindi poi gli hanno tolto il tubo gli hanno messo l'aerosol che gli teneva bloccato tutto il lavoro qua sopra la bocca per un certo periodo gli è rimasta un pochettino rigida perché l'intubatura quella grossa gli teneva il lavoro aperto così purtroppo era dovuto essere intubato perché quando era stato male all'inizio per chi ha seguito tutta la vicenda lo sa quando ha avuto la crisi epilettica il primo giorno gli era venuto poi da vomitare ma gli era tornato indietro e gli era finito nei polmoni e di conseguenza per ripulire i polmoni avevano dovuto intubarlo del tutto e c'è stato un bel po' prima di riuscire a ripulire tutta la situazione per cui insomma ci saranno sicuramente dei tempi un po' più lunghi ecco poi l'ansia a volte fa tanto mio marito è già una persona estremamente ansiosa di subo siamo l'opposto noi siamo gli opposti che si attraggono io non ho quasi mai ansia per nessun motivo lui ce l'ha anche per me normalmente ci compensiamo e quindi l'ansia il fastidio che ha avuto il blocco stesso perché quando lo sappiamo quando una parte del nostro corpo rimane bloccata per tanto poi comunque deve riabituarsi a tutto adesso vedremo la situazione generale vedremo questa risonanza ammesso e non concesso che riescano a fargliela sempre per la questione dell'ansia lui è claustrofobico e poi appunto ancora prima di entrare si fa prendere dall'ansia per cui io non so se riusciranno a fargliela o no non so nemmeno cosa all'epoca nel 2017 quando gliela avevano prescritta ma poi non c'è stato nessun verso di riuscire a fargliela alla fine avevano optato per rifargli nuovamente un attack col contrasto ora vedremo qua se gli riusciranno a fare effettivamente la risonanza o se opteranno magari per altre tipologie di esami per immagine ancora non ve lo so dire comunque vederlo con la schiena un pochettino rialzata solo con i due medicinali in flebo e poi vabbè sì c'è ancora anche la flebo del glucosio però che beveva dalla cannuccia poi sta facendo l'area sol per finire di pulire anche bronchi e tutto il resto però con la cannuccia che si teneva comunque il suo bottiglino un po' a modo subopero lo teneva e che riusciva a deglutire con la cannuccia tranquillamente senza perdite senza niente secondo me è già un passone enorme devo dire sinceramente che lì nel reparto di rianimazione di camerino sono stati veramente solerti, precisi, attenti io sono una poi che tende sempre a guardare il capello soprattutto quando si tratta di ricoveri, quando si tratta di ospedali sono una rompiscatole che non ce n'è mi rincorro i dottori ma non è che per caso può essere questo ma non è che per caso può essere quello sembro il dottor house dei poveri che insegue i medici tirando fuori le sue teorie a prescindere che poi siano giuste o meno e quindi invece no devo dire che sono stati veramente veramente precisi si dice fiscali in tutti i passi, in tutti i passaggi la situazione era un gran casino era un gran casino sia per come era messo ancora per come è messo anche se il quadro generale sta andando comunque a migliorare meno male ma diciamo che ancora non si è tornati a nulla che era la normalità è ancora tutto da lavorare, da portare avanti però ecco da come era iniziata, da come era messa e poi il problema principale è stato sin da subito il fatto che a parte la questione del polmone che era stato trovato invecchiato e che si stava restringendo e al quale avevano dato la colpa iniziale ora io non so se hanno continuato poi sul filone del polmone o meno perché oggettivamente finché adesso non viene portato in reparto ho deciso di non rompere più le scatole ai dottori mi avete capito, mi avete capito, mi avete capito perché tanto non serve a nulla mi stresso io e vado a stressare anche i medici che stanno già facendo il loro per il meglio che si possa fare quindi ho deciso di sì, chiedo come va ovviamente chiedo se ci sono degli altri risultati ma non ho più insistito sulla questione chissà cos'è stato anche perché quando andrà poi al reparto dovrò chiedere ne ho già parlato anche con il dottore appunto della rianimazione che mi ha confermato che sarà poi il reparto in questo caso il reparto di medicina a farmi tutta la situazione per la... come si dice la relazione prima ancora che esca dall'ospedale la relazione per poter poi andare anche a far rivalutare l'invalidità mio marito aveva già l'invalidità era già invalido dal 2017 perché aveva una serie di patologie appunto la pancreatite cronica penniculite del mesentere aveva avuto l'helicobacter che gli aveva mangiato mezzo stomaco insomma una marea e mezza già di suo e adesso devo presentare anche tutta la nuova situazione e ciò che è accaduto però appunto la... io sono molto precisa in queste cose ogni volta che c'è da dichiarare o da fare un passo in più o in meno io dichiaro sempre tutto porto sempre tutto avanti e appunto il dottore il primario della rianimazione mi ha detto queste sono documentazioni che lei nel momento in cui poi verrà messo in reparto normale potrà chiedere direttamente al reparto che le faranno una sorta di relazione iniziale e tanto invierà quella all'Inps per cui nella relazione sicuramente poi ci sarà anche appunto oltre alla terapia che poi gli verrà somministrata perché al momento gli stanno dando quelle due medicine che vi ho detto ieri e che mi hanno poi ripetuto anche amici che hanno capito di cosa parlavo ma che ecco erano ci è arrivato Andrea Ah Andrè scusate perdonami Andrè Dexdor e Tazocin che io non conoscevo peraltro come medicinali via Flebo e poi le terapie che prendeva prima e che il dottore giusto da ieri mi ha fatto riportare in reparto si è consultato con gli altri medici che lo seguivano per le sue altre patologie gli hanno dato dei dosaggi differenti da quelli che prendeva a casa ma hanno consegnato tutto hanno dato i dosaggi nuovi e tutto al reparto di reanimazione quindi il dottore a me ha solo detto mi porti le medicine che prendeva prima che con i dosaggi che ci hanno dato adesso incominciamo a dargliele anche perché oltre a succhiarsi i bottiglini di proteine che sono al cioccolato e quindi gli piacciono deve anche buttare giù le pasticche perché deve ricominciare a prendere le sue terapie per le altre sue problematiche anche e quindi tutto l'insieme fa comunque diciamo che nel casino e nel male di tutto ciò che è accaduto grazie in parte al destino perché comunque per come è andata poteva andare decisamente molto peggio nonostante sia andata male io vedo sempre il lato positivo delle cose o perlomeno cerco sempre di mitigare anche quando c'è del negativo a livello proprio di pensiero mio personale sono sempre stata caratterialmente così non sono mai stata pessimista sono sempre stata tendente all'ottimismo o comunque a valutare anche l'aspetto ottimistico di qualsiasi situazione accada grazie soprattutto e in primis ai dottori perché io lo dico sempre c'è una brutta abitudine tra gli esseri umani in generale per lo più tra i credenti credenti di qualsiasi religione a prescindere ma è una congettura che comunque utilizzano un po' tutti quanti quando le cose sembrano andare un pochettino più bene sono sempre grazie a dio io sono atea quindi grazie a dio non lo dico ma in generale come mentalità quando le cose vanno male è colpa dei dottori e non funziona così dal mio punto di vista se una cosa va bene è grazie ai dottori poi ci può stare che una cosa che vada male possa anche essere colpa dei dottori perché anche i dottori sono esseri umani come ciò che accade può essere grazie a una forza se ci credi divina o a una forza universale o al potere di tutte le vibrazioni positive che mandano amici conoscenti e lì ci credo già un po' di più come una cosa che avviene in maniera negativa può essere colpa allora di quella tua forza divina perché no perché una divinità una forza qualsiasi che sia divina divinità un dio qualsiasi o che sia una vibrazione negativa mandata magari da qualche stronzo o da più di uno stronzo perché esiste anche questa possibilità nelle nostre vite terrene deve essere valutata sia nei suoi pro e sia nei suoi contro allo stesso modo non è che la sfiga ti arriva per sfiga e poi ti salva il tuo dio perché se il tuo dio è onnisciente tutto sa e tutto vede lo sapeva già cosa sarebbe successo no e di conseguenza grazie a chi sta ceppa scusate quindi o si valuta a 50 e 50 i pro i contro o è meglio non valutare e quel modo di fare di tante persone che appunto quando la cosa va bene grazie a dio è stato un miracolo mi hanno ascoltato le prechiere e via dicendo ma poi quando va male i dottori erano strunzi e no non va bene allora anche quando va bene meno male che c'erano dei dottori con le palle come si deve e quindi tanto di cappello ai dottori anche perché non è facile secondo me scegliere di fare il medico non è facile per niente soprattutto per certe categorie di dottori come appunto i dottori di medicina i chirurghi i dottori della rianimazione e altri ancora gli oncologi perché perché tu scegli proprio di fare un lavoro dove è vero che quando riesci hai salvato una persona ma quando non riesci ti incolpano anche di cose che tu non hai come colpa poi appunto c'è questa mentalità del se è colpa è il dottore se è andata bene grazie a dio che già non aiuta l'autostima dei medici è un lavoro decisamente difficile a livello proprio mentale psicologico purtroppo in questo periodo qua poi ci sono tanti complottismi quindi la gente pensa sempre che i dottori siano tutti alleati contro la salute della persona un po' come anche gli aerei che sono tutti d'accordo a cacciare miliardi in cose chimiche in giro per sterminarci o perché gli alieni gliel'hanno chiesto o mille altre boiate che escono in giro per il web perché purtroppo la libertà di scrivere sul web ce l'hanno tutti e questo è proprio un purtroppo a volte e invece dal mio punto di vista ai medici quelli che si impegnano quelli che ci provano quelli che ci riescono va riconosciuto il giusto merito detto questo l'aggiornamento per oggi è questo sempre grazie a tutti quelli che sono sempre interessati a sapere come sta andando la situazione e il riassunto il succo è che la situazione è sempre ovviamente ad oggi estremamente complessa lunga e quant'altro ma come ho detto ieri come ho detto avanti come ho detto negli ultimi giorni piccole o anche un po' più grandi perché in questo caso qui per esempio il fatto di non avere più il sondino ok se l'era tolto da solo però non avere più il sondino e riuscire da subito a deglutire con la cannuccia è un grande passo avanti decisamente la situazione sta andando leggermente a a essere un po' più positiva un po' più speranzosa per tante cose un po' più un po' meno tesa ecco per tutti sì ora lui ancora un po' si incavola perché non riesce a parlare bene non ha ben capito cosa gli sia successo ma queste sono cose relative cose che con calma e pazienza si spiegano si riprendono si si elaborano quindi sono tutte quelle cose che possono dare un po' d'ansia un po' di preoccupazione ma rispetto alla situazione iniziale non c'è nemmeno il paragone e questo è l'aggiornamento vi saluto vi ringrazio sempre davvero di cuore a tutti quanti a chi segue tutto quanto a chi mi commenta qui a chi mi commenta sui social dove condivido anche questi video a chi mi pensa anche solo una volta al giorno a tantissimi che mi stanno aiutando in maniera proprio fisica e materiale a partire da Erika che è tutti i giorni presente tutti i giorni mi porta su e giù dall'ospedale e non è proprio una passeggiata e fa le corse poverina campeste per riuscire a incastrare i suoi impegni giustamente con il portarmi su e venirmi a riprendere e riportarmi a casa tutti i sacrosanti giorni e agli amici di Genova che mi scrivono a mia cognata che aveva mia cognata e anche sua sorella è venuta su subito giù perché lei stava giù subito appena saputo la cosa per cercare di dare una mano anche lei a tutte le persone che sono vicine in qualche modo nei mille mila modi in cui possono esserlo andiamo avanti io continuo ad aggiornare tutte le persone che appunto chiedono e gli fa piacere sapere come sta andando la situazione grazie davvero a tutti sempre ciao